Andremo a vedere i servizi che il Comune gestisce e poi andremo anche a valutare la qualità del servizio erogato in termini di assistenza domiciliare. Verifiche sul sociale a Cassugana, un tema che anche nella ricca Treviso si fa sempre più pensante, con l'aumento delle famiglie che chiedono aiuto perché non ce la fanno più. E l'aiuto molte volte non è solo economico ma sociale, con figli da seguire, anziani da accudire e genitori in precarie condizioni lavorative che non riescono a far coincidere i ruoli e i bisogni. Per questo in via sperimentale con l'ULS9, Treviso, con i quartieri di San Zeno, Sant'Angelo e Canizzano, sperimenterà il vicinato solidale. Prevede il coinvolgimento di famiglie affinché creino una rete generativa di welfare, cioè di benessere, per evitare situazioni di grave marginalità. In pratica si cercherà di ricreare quella rete tra famiglie di un tempo, dove le difficoltà si affrontavano assieme. Si parte con questo perché ci consente chiaramente di poter lavorare con più facilità, perché aiutando famiglie con figli si crea la possibilità per queste famiglie di avere del tempo per poter reinserirsi e recuperare quelle situazioni di difficoltà in cui si sono venute a creare. Un progetto con la presenza delle assistenti sociali, al quale potranno partecipare le famiglie dei quartieri a sud ovest della città. Per questo lunedì prossimo in Villa Letizia ci sarà una serata dove verrà presentato il progetto e raccolte le adesioni. Un esempio è molto semplice. Creando appunto questi contatti fra le famiglie, le famiglie aiutate chiaramente dalle istituzioni possono mettere a disposizione del tempo per altre famiglie, ad esempio ospitando i figli qualche pomeriggio o a pranzo o a cena, per dare la possibilità quindi di dare un po' di sollievo alla famiglia che riceve questo beneficio. A sua volta la famiglia che riceve questo beneficio potrà contraccambiare la famiglia che ha ospitato il proprio figlio, dando per esempio delle altre ore, quindi ricambiando così il favore.